Si va a fare la spesa, è tutto più caro. Anche sul cibo quindi si taglia? Eh sì. Su che cosa nel cibo lei ha tagliato? La pasta, il pane, la carne per esempio è quasi inavvicinabile. Prenotare una mammografia è diventato impossibile. Ho provato a prenotarmi per una mammografia e invece ho scoperto purtroppo che il servizio è stato interrotto e a tempo indeterminato. Quanto ammonta la rata del mutuo? Feci un mutuo con un testo variabile per cui puoi variare delle 300 e puoi arrivare anche sotto il sole di 500. Fino ad ora sei riuscita a pagare tutte le rate? No, ne ho otto arretrate. La precarietà è una condizione per quanto mi riguarda devastante. Loro mi hanno dato questo contratto dopo forse 3-4 giorni di lavoro effettivo. C'era scritto che io lavoravo soltanto un giorno a settimana, 4 ore. Non posso prendermi neanche un frullatore a rate con un contratto del genere. Ma sai quanto sarebbe dignitoso per me avere un salario minimo? Cercare di affrontare sto precariato perché altrimenti non se ne esce vivi. Chireremo nel paese anche 10 aerei in grado di trasportare armi nucleari tattiche. Ci vediamo qui, sabato 17 giugno alle ore 14. È ora di far contare le vostre voci. Grazie.